Le basi per la creazione di un casello della 26 Predosa erano state gettate lo scorso autunno nel corso di un incontro promosso dalla società Vale Orba Depurazione, organizzato dai comuni dell'Ovadese Confondazione Slala, che si era svolto alla presenza del viceministro delle infrastrutture e trasporti presso il resort Villa Cavolina di Castelletto d'Orba. Il progetto sta avanzando e dal tavolo tecnico della provincia stanno emergendo le prime proposte e soluzioni per la realizzazione del tracciato stradale che collegherà Predosa con l'Aquese. Infatti proprio il comune di Aquiterme con Ovada, Predosa, Provincia, Fondazione Slala saranno gli attori principali dai quali prendevano il via le mosse per giungere alla progettazione e alla realizzazione dell'opera per la quale la regione ha messo già a disposizione oltre 400 mila euro. Il casello di Predosa già da solo aiuterà tutto il nostro territorio a essere meglio collegato alla rete autostradale in una maniera facile e veloce, ma tutta la zona dell'Aquese ne trarrà un ulteriore e grande beneficio nella fase immediatamente successiva, cioè il collegamento di quel casello di Predosa alla variante di Strevi. Quindi quello che la città di Acqui chiede, e non dimentichiamo che la regione ha stanziato l'anno scorso 420 mila euro conferiti alla provincia proprio per la progettazione di questa arteria, un collegamento il più possibile dritto, il più possibile veloce, che sia quindi più funzionale rispetto all'attuale variante di Strevi, che per carità meno male che c'è, ma è tutta curva e sostanzialmente non si riesce a soppassare e si va un po' piano quando c'è traffico. Ecco, con questa nuova arteria di una decina di chilometri completamente in pianura, la città di Acqui direttamente potrà essere collegata insieme con tutto il suo circondario alla rete autostradale. La proposta che Acqui avanza è anche quella di denominare il nuovo casello come Predosa Acqui Terme. Un po' come succede quando si va in Emilia e se uno arriva e incontra sulla A1 il casello di Fidenza, il casello di Fidenza è denominato Fidenza Salsomaggiore Terme. Poi da Fidenza Salsomaggiore ci sono circa 12 chilometri, quindi avremo la stessa identica situazione per Acqui. Questo secondo me è molto importante perché avere il nome della città sulla rete autostradale ed effettivamente avere un collegamento veloce tra la rete autostradale e la città, da punto di vista turistico e da punto di vista di chi ci vuole venire a trovare o magari non ci conosce ma ci incontra, è sicuramente un grande vantaggio. Sarà però Aspi a decidere quale sarà il nome del casello, ha precisato il sindaco di Predosa, che ha voluto sottolineare come per la maggior parte dei casi le uscite autostradali portino il nome del comune in cui si trovano. Il primo cittadino del comune della Val d'Orba non è però chiuso al dialogo su questo fronte, convinto dell'importanza del fare squadra per giungere ad un risultato positivo per tutti.